Salve, sono Massimo Frinchillucci dell'Armeria Frinchillucci di Roma e volevo presentare la nuova linea della Cyber Gun che distribuiamo in esclusiva per il mercato italiano. Sono delle armi in funzionamento CO2 o a molla compressa che replicano le più famose armi sul mercato. In questo momento le ultime novità disponibili sono l'AK, il famoso Kalasnikov, e a seguire avremo interessante anche la Mini Uzi. Disponibilità immediata anche di pistole tra cui c'è la SIGSAO e la GSR e tutta la configurazione della serie X5. In particolare mi soffermo sulla AK-47 Kalasnikov che è una configurazione completamente in metallo con un peso reale, con un'alimentazione con bombolette CO2 e una capacità di colpi, pallini sferici in 4,5 da 22 colpi. L'arma praticamente anche al tatto sembra la versione reale. Altra novità ormai di prossimo arrivo è l'Uzi Pistol della famosa casa israeliana dell'Imi, in configurazione sempre con bomboletta CO2, capacità a 25 colpi, anche questo qui completamente in metallo, con calcio retrattile. Disponibile là penso fino aprile. L'altra arma interessante c'è questa SIGARMS, il modello è la GSR che è un modello su base Colt 1911, fornita anche di rail sottostante per il montaggio di accessori tattici. Una configurazione sempre con alimentazione con bomboletta CO2, 15 colpi, già di disponibilità immediata.